Nell'ottobre 2016 a Pieve Bovigliana, come in gran parte del centro Italia, il terremoto ha distrutto molti sogni. Anche il sogno delle nozze di una giovane coppia sembrava distrutto. Finché due ragazze non hanno deciso di organizzare loro il matrimonio a titolo completamente gratuito grazie all'aiuto di molte persone di buon cuore. E così il 7 maggio a Serra dei Conti è stato celebrato il matrimonio di Paola e Simone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.